Chi è? Chi è? Chi è? Mio figlio, sta facendo gli esami! Pronto! Luigino, dia papà! Chiedi e ti sarà detto. Si, vai tranquilli, ti aiuto io. L'unità? Non lo so, aspetta, mo chiedo... Che stanno i colleghi, mo chiedo anche a loro. Aspetta, non chiudere, aspetta. L'unità di misura del buio. Del buio. L'unità di misura del buio. L'unità di misura del buio... Metronotte. Metronotte. Pronto? Metronotte. Scrivi. Non ti preoccupare, abbi fiducia. Tu chiedi, se hai bisogno chiedi. Ciao papà, ciao, 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 ciao. E poi se non chiedono...